Un mondo in continua evoluzione ha bisogno di un sistema di valori forti che illumini la strada verso un futuro sostenibile. ABB, leader nell'innovazione tecnologica, ha scelto di affiancare il progetto Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023, per supportare il territorio nell'affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Abbiamo valorizzato la nostra presenza su un territorio di incredibile energia che si contraddistingue per la profonda tradizione manifatturiera. Quest'anno abbiamo generato spazi di dialogo fuori dagli schemi, inclusivi e dinamici, perché la diversità di punti di vista è la chiave di svolta del progresso e della crescita di ciascuno. Per ABB era importante farlo generando cultura, che per noi significa cura dei territori e delle comunità in cui operiamo, collaborazione con interlocutori storici e nuovi, coraggio di osare, con innovazione e ingegno, con la curiosità di guardare il mondo da prospettive diverse. Questi sono i valori di ABB che illuminano il nostro viaggio verso il futuro.